L'ingegner Cosimo Natuzzi, dirigente tecnico di Chima Ambiente, tante iniziative da parte dell'azienda per una raccolta differenziata sempre più civile a misura di cittadino con strumenti tecnologici all'avanguardia che poi usiamo tutti i giorni. Tracciamo un po' il bilancio di questi mesi di attività, c'è una risposta, una certa sensibilità da parte del cittadino attraverso un po' i dati, attraverso l'andamento di questi mesi? I dati dei primi mesi sono sicuramente positivi e dobbiamo interpretarli come dati ottimistici, nel senso che dobbiamo sicuramente fare meglio, migliorare un percorso in salita ma era fisiologico. Era fisiologico perché purtroppo questi cambi di cultura sappiamo benissimo che sono cambi che richiedono diversi anni perché imporre nuove modalità di raccolta dei rifiuti a casa degli utenti è sicuramente un percorso difficile. Però noi come azienda stiamo facendo tutto ciò che possiamo mettere in campo grazie anche ai contributi dell'amministrazione comunale e quindi dopo l'avvio dei servizi di raccolta porta a porta nei quartieri Paolo VI e Tamburi e dei cassonetti ingegnerizzati nei quartieri Borgo e Città Vecchia, adesso dopo il primo periodo stiamo vedendo grossi miglioramenti, la percentuale complessiva della raccolta differenziata aumenta e vediamo che anche gli utenti rispondono in maniera sempre più corretta relativamente al conferimento della frazione merceologica giusta all'interno del cassonetto colorato corrispondente. L'obiettivo ovviamente è estendere il programma dell'amministrazione e questo servizio anche al resto del territorio comunale che ancora oggi non è interessato dai servizi di raccolta differenziata e cercare di farlo nel più breve tempo possibile, ripeto, lavorando in stretta sinergia con azienda, comune e cittadini, utenze commerciali e domestiche affinché il tutto possa rendere e dare soddisfazione ai risultati auspicati.